Grazie per aver chiamato, non c'è nessuno che possa rispondere. Per lasciare un visaggio in questa cassetta postale, attendere il segnale acustico. Grazie. Grazie per aver chiamato, non c'è nessuno che possa rispondere. Per lasciare un visaggio in questa cassetta postale, attendere il segnale acustico. Ci sei? Non ci sei. Ci sei? Sono a Parigi e ci resto tutto a fine settimana. Mi sono fatte i capelli rossi. La più grande novità, aspetto un bambino, nascerà in ottobre. Il padre è quest'uomo francese, francese per passporto, comadè francese e padre francese ma è vero. Il mio progetto è andare a vivere con lui e mi ha offregato e non so cosa decidere. Mi fa male restare qui ma tornare nella guerra civile sarebbe peggio soprattutto per il bambino. Sono così confusa. Ho bisogno dei tuoi consigli. Ti prego, chiamo appena poi. Pronto? Pronto? Samia? Pronto? Mi sono addormentata. È un poits, è una z ситуazione humana che vive. È un poità che prima? Questa è un poità che è un poità che chiude, Awww